Forza un po' questa? Già, sì. Sì Sì, a ver... Sì, a ver... 14 minuti... Sì, 14... Sì? Ok... A ver, quando voglio Devo cambiare... Mmm, che interessante! Non cantano! Sì... Riete, riete! Que guai! Enfocale más la cara, en plan... No, no, no... Ok, 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 ok Ok, ok, ok Que guai! Si después le damos un modesto Va a decir que si no va a durar un video Estás grabando? Sì Ok No vale Es que no puedo, como... Esto le amo a usted A ver... Mmm... Mmm... Ufff! 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 Ufff!